...per aprirci la strada verso le navette. I men li hanno proprio truffato. Ecco fatto. Andiamocene da qui. Ok, li abbiamo sistemati, ma per noi si mette male. Shepard, se ti dico per chi lavoriamo, ti fidi di me. Non mi sembra proprio il momento, Jacob. Non ce la faremo se lei si aspetta un colpo alla schiena. Se vuoi fare incazzare il capo, Jacob, accomodati pure. Il progetto Lazarus, il programma che ti ha ricostruito, è finanziato e controllato da Cia. Non ci senti, c'è nessuno che incontra la schiena. Oh, oh, oh. Sì, sì, sì. ecco fatto chissà che male il soggetto sperimentale è stato recuperato ma i danni sono peggiori di comandante shepard l'uomo misterioso credevo che ti avrei incontrato di persona una precauzione necessaria non insolita tra chissà ciò che sappiamo tu e io pare che qualcuno se ne sia andato nel bel mezzo della scena strano niente corpi nessun danno strutturale nessuna traccia di una battaglia attenzione 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 sistemi ausiliari distruggili prima che facciano fuori ai mac non dovrebbero esserci ostili avrebbero dovuto riconoscerci come esseri umani o нравi programmati per attaccare a Qui non siamo soli. Non ti muovere! Brazza, avevi detto che ci avrei pensato io. Ma tu sei Shepard? Meglio non correre rischi con gli agenti di Cerberus. Giù le armi, subito! Shepard, ma come... sei viva? Fa' attenzione Shepard, più avanti c'è una squadra di droni di sicurezza. Grazie per l'avvertimento, ce ne occuperemo noi. Prova a sovraccaricarli. Sono fatto attacco! Sì! Sì! Avevole! Sì! Versaglio abbattuto! Sì! 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 Bene! Brigade Shepard, siamo nella zona di carico. Vitor ha riprogrammato un mech pesante. Sta facendo a pezzi la squadra di prazza. Volevano raggiungere Vitor per primi. Metti a riparo la tua squadra e io aprirò le porte della zona di carico. Ci ripareremo vicino alle porte. Vai avanti tu, Shepard. Così! Mi metto a riparo! Ah! Quel mech ha una corazza pesante. Quei quarian non avevano speranza. Quel bastardo ha un osso duro. Non sarà facile sconfiggerlo. Sistemi difensivi attivi. Rilevamento danni. wegare il powder. Ah! Provergare ilinois astronomial quelli che rispefose di fare speranza. Ah! 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 Grazie a tutti.